Buonasera a tutti. Oggi è il 26 febbraio 2024. Io sono Bruno Crevato Selvaggi, direttore dell'Istituto di Studi Storici Postali Aldo Cecchi, ODIV, e questa è la settima puntata dell'edizione 2024 del Tavolo dei Postali. Il Tavolo dei Postali è un'organizzazione congiunta dell'Istituto che dirigo, del quotidiano di informazione filatelica online Paccari News, dell'Unione Stampa Filatelica Italiana e del Museo Storico della Comunicazione che afferisce al polo culturale del Ministero delle Imprese e del Medi in Italia. Fabio Bonaccina è il direttore del quotidiano di informazione filatelica online Paccari News e gli chiedo di spiegarci che cosa sia il Tavolo dei Postali. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti anche a questo incontro che è il settimo di questa edizione 2024. I binari sono sempre quelli, i parametri sono sempre quelli, arte, intrattenimento, conservazione e cultura. Questa sera parleremo di sport ma lo sport ha in qualche modo funzionale alla posta. Poi ci sarà Giancarlo Morolli che è il relatore che approfondirà l'argomento che è davvero molto molto curioso. Forse gli appassionati di sport rimarranno un po' delusi perché si immaginano partite, si immaginano sfide ma in realtà è tutt'altro ed è molto interessante. Grazie Laura ancora per essere presenti. Grazie. Il presidente dell'Unione Stampa Filatelica Italiana che è co-organizzatrice del Tavolo dei Postali è Beniamino Boldoni che è qui con noi e cui invito tenere un indirizzo di saluto. Io ringrazio tutti voi per la partecipazione. Ricordo che l'Unione Stampa Filatelica Italiana è l'associazione che raccoglie i giornalisti e gli autori che scrivono di francobolli e di posta e quindi a tutti gli effetti partecipa con entusiasmo e molto volentieri a questa iniziativa del Tavolo dei Postali. Questo proprio perché uno degli obiettivi statutari dell'USFI è quello di diffondere l'informazione e la cultura filatelica a tutti i livelli. Questa sera ho un motivo di soddisfazione in più perché il relatore è Giancarlo Morolli che tutti voi conoscete e che ricordo è anche un consigliere dell'Unione Stampa Filatelica Italiana. Non tolgo altro spazio quindi auguro nuovamente a tutti voi un buon ascolto per la relazione di questa sera. Bene, grazie. Graziella Rivitti è la direttrice del Museo Storico della comunicazione che afferisce al polo culturale del Ministero delle Imprese e Made in Italy. Prego Graziella. Sì, buonasera a tutti e tutte. Siamo alla settima, sì, l'avevi detto tu prima, lo ripeto di nuovo anch'io e quindi lo dico perché così penso al prossimo anno per il nuovo Tavolo dei Postali che forse si potrebbe fare in un altro orario perché devo portarla questa voce di molti colleghi e colleghe che mi dicono che alle nove di sera proprio non ce la possono fare e poi però rivedono le registrazioni quindi ringrazio comunque tutti e le registrazioni stanno avendo dei grossi numeri e vengono diffuse, vengono molto apprezzate. Sono appunto sul sito del Ministero su Facebook e contribuiamo così a diffondere il contenuto delle conferenze. Sull'argomento in particolare ho poco da dire quindi sono molto curiosa di ascoltare il relatore su quello che può essere lo sport e posso solo dire che su 3200 metri quadrati di museo tante volte insomma diventava una specie di maratona andare su e giù eh con quando quando potevamo quando potevamo puntini puntini puntini. Buona serata a tutti e tutti. Grazie. Allora il relatore di questa sera è eh Giancarlo Morolli e il suo titolo è Olimpiadi e posta. Per presentare Giancarlo Morolli dirò che eh è attivo in filatelia dal 1952 o 53 e da lì ha eh si è sempre occupato di Franco Bolli e di collezionismo eh ricoprendo anche una miriade di cariche a livello cittadino regionale nazionale internazionale mondiale e la cosa che maggiormente dobbiamo apprezzare in Giancarlo è che dopo più di settant'anni di attività non ha ancora perso la passione né l'entusiasmo che è sempre molto alto sia per le attività organizzative sia per le attività di politica filatelica sia per le attività di collezionismo. Con grande piacere quindi gli cedo la parola per la sua presentazione. Prego. Grazie Bruno, grazie a tutti voi e buonasera. Io eh non sono, premetto, non sono un collezionista di olimpiadi. Però nel mila novecentosessanta ero già membro del consiglio direttivo del centro internazionale di filatelia sportiva di Rini che ha il merito di aver ottenuto dal comitato olimpico internazionale proprio in quell'anno che la filatelia diventasse una disciplina in eh nel contorno dei giochi olimpici cosa che è avvenuta regolarmente per un paio di decenni. Con questa premessa eh devo anche dire che questa eh io ho un grosso timore di non essere in grado di portare il discorso nella direzione per cui l'ho immaginato da tempo, l'ho metabolizzato e ho cercato di metterlo in queste diapositive. In questo senso qui come ha detto Fabio non si parla di sport. Lo sport è semplicemente un discorso accessorio. Qui si parla della posta sia intesa sia come amministrazione responsabile di un servizio sia di posta nel senso di corrispondenza cioè quella quell'oggetto di quel servizio e questo in relazione ai giochi agli olimpiadi. Qui di atleti se ne parlerà casualmente di due di tre credo in tutto ma proprio perché sono entrati nel discorso e non per i loro meriti sportivi diretti. E ci ho premesso devo dire che per capire le mie parole devo andare a citare due esperienze personali. Prima di tutto io nella mia vita professionale mi sono occupato di informatica partendo nel 1967 e quindi siccome lavoravo per la più grande multinazionale del settore e ero addirittura in un centro europeo e quindi avevo accesso a sviluppi in ben anticipo sia in termini di software che di hardware ho visto arrivare non so la prima stampante laser che ho visto è stata nel 1974 quando era un cassone enorme che occupava uno stazione. Quindi ragionare oggi pensando alla stampante laser come l'oggetto di oggi per me è come la conclusione di un discorso cominciato appunto tanti anni fa e che è passato per tanti fasi intermedie. Se io oggi parlo di come ho fatto con Fabio qualche ora fa quando gli ho mandato questa presentazione di un trasferimento di file con un programma tipo WeTransfer è una cosa ovvia. quando nel 1978 dovevo mandare un software da Monaco di Baviera dove lavoravo a San Francisco ci mettevo due giorni e dovevo andare personalmente a consegnarlo alla Pan American e sperare che alla dogana americana poi che non ci fossero intoppi e che me lo bloccassero per qualche verifica. Quindi però oggi noi con lo smartphone siamo stati ormai abituati a fare le cose nell'immediato quando certi fatti analoghi cento anni fa erano impossibili o richiedevano dei tempi o dei mezzi enormi rispetto ad oggi. Quindi la prima cosa è di riuscire a posizionare i fatti nel quadro in cui si sono svolti dal punto di vista temporale. Il secondo aspetto invece parlo sempre di esperienza personale io ho cominciato esattamente nel 1950 a raccogliere francobolli e una delle prime cose che mi sono fatto regolare è stato un album a fogli mobili una pagina per paese che si chiamava il globo e per alimentare visto che c'erano tanti paesi da riempire o perlomeno a cominciare a incolare dei francobolli utilizzando quelle oscene linguette ricavate dal nastrino di carta gommata che si comprava dal tabaccaio dunque per riempire le pagine si andava a comprare i bustoni con cento o cinquecento francobolli e inevitabilmente capitavano ad esempio i francobolli con il posto di petrolio o la la ganaderia la mucca argentina per cui ci si faceva dall'argentina si sapeva qualcosa ma pochissimo pensiamo che 1950 praticamente subito dopo la guerra e quindi si aveva la percezione che l'argentina fosse il paese in cui c'era una c'era del bestiame di pregio e c'erano i posti di petrolio quella è un'informazione che arrivava direi di primizia rispetto a un ragazzino di 11 anni rispetto a quello che si poteva sapere corretto altronde i libri a casa ce n'erano ben pochi chi era stato sfollato e aveva visto magari distruggere la casa queste cose ormai li aveva perse quindi c'era tutto un percorso da rifare ebbene in quel periodo man mano i francobolli e lo stesso le cartoline hanno avuto un significato enorme nella anche perché la fotografia le immagini non erano così comuni anche sulla stampa quella che i giornali così quindi ricordate i quotidiani ad esempio non avevano praticamente fotografie quindi questi fatti questo questo valore formativo informativo e anche formativo di di francobolli della corrispondenza si chiedeva a amici e parenti se ti arriva qualcosa con dei francobolli strani metti la via per me è stato tutto un fatto che oggi ormai abbiamo perso e quindi nella nell'ascolto nella lettura di quello che vi farò vedere vi prego di proprio mettere una lente del tempo perché altrimenti sembra solo un elenco una catalogazione delle emissioni e del supporto in termini di cartoline o o quant'altro alle varie edizioni dei giochi ci ho premesso chiedo scusa è qui passo la condivisione sono già in condivisione Bruno? no ok allora passo in condivisione se permetti a posto sì ok allora ecco a questo punto ok ok allora quindi in pratica i giochi nascono nel 1896 per il fatto che praticamente ci sono tutta una serie di tendenze da un lato le grandi scoperte archeologiche che vengono degli ultimi decenni che vengono divulgate in tutta Europa dall'altro il fatto che arrivano le prime tecnologie parlo soprattutto del telegrafo quel momento e del del treno che unisce più velocemente i paesi europei anche grazie alle opere strutturali che vengono fatte ecco e quindi in questo nel momento che nascono questi giochi nel 1896 vediamo che c'è già un primo coinvolgimento delle amministrazioni postali che all'epoca sono parte dei ministeri questo non tanto perché le olimpiadi portassero un un carico di servizio chiaramente una diversificazione di servizi nel senso di richieste di particolari da parte di dei visitatori stranieri ma soprattutto perché i francobolli potevano svolgere un ruolo promozionale informativo e avere anche un ruolo finanziario come è stato nel caso dei primi giochi che vedremo tra un momento e come dicevo il secondo aspetto le immagini sui francobolli se opportunamente predisposte possono divulgare il messaggio olimpico sia in termini culturali sia in termini del delle famose frasi che il cubertene ha fatto sue non era esattamente mensana in corpo del sana ma era una frase analoga che lui usava l'altricizio salzio forcius anche questo che era una delle cose a cui si facevano riferimento quei signori che si sono riuniti per dare vita a questa attività a livello internazionale. Chiaramente a questo discorso di attività della posta si aggiungono anche le iniziative di organizzazioni sportive di aziende e altre entità pubbliche e private che voi io non c'erò perché variano gioco per gioco. Io in questa presentazione copro il periodo che va dal 1896 sino ai giochi non che non hanno avuto luogo nel 1940. I giochi, i primi giochi sono stati resi possibili dal sostegno economico ricavato con l'emissione di una corposa serie di francobolli. Dopodiché il informe beneficiari diversi perché non sempre le emissioni sono date a favore del comitato organizzatore sono stati raccolti contributi per i giochi o per la partecipazione ai giochi. Ecco e come dicevo le immagini diffondono la storia ai valori ideali dei giochi anche perché all'inizio i francobolli facevano riferimento agli antichi giochi olimpici e la prima emissione è stata fatta il 25 marzo del calendario giuliano che era il 6 aprile del nostro calendario però era la data dell'innovazione dei giochi quindi non c'è stato nessun ruolo promozionale ma solo di sostegno finanziario e di promozione culturale. Ecco a quel punto io ho preso in considerazione grazie anche alla mia esperienza come consulente al museo olimpico del CIO a Lausanne di cui ho rimesso a posto le collezioni e il fatto di ho preso conoscenza delle vignette e delle altre cartoline che con le loro informazioni hanno contribuito, essendo all'inizio in un ruolo con un ruolo sempre più importante, a fare propagandare questi eventi e a finanziare a livello soprattutto nazionale o settoriale diciamo a livello di singole federazioni sportive la partecipazione degli atleti ai giochi. Poi questo come è avvenuto? È avvenuto facendo praticamente anche prendendo iniziative di tanto in tanto nei giochi intercalari o del decennale del 1906 di cui parleremo sono stati usati i primi annulli dislocati nei punti di maggiore interesse esportivo e turistico. Nel 1912 hanno cominciato gli annulli di propaganda e di servizi allo stadio per bollare la corrispondenza imbucata dagli spettatori. Poi un'altra cosa che è stata una sorpresa perché oggi nessuno andrebbe a comprare una cartolina con la foto dell'inaugurazione di un'Olimpiade a meno che ci sia il valore della scenografia che è predominante ma vedere degli atleti sfilare a questo punto è diventato così comune in televisione che non fa più né caldo né freddo. Allora spedivano nei primi decenni le foto con l'inaugurazione da parte di sovrani o le foto delle sfilate degli atleti in alternativa alle cartoline con le bellezze della città piuttosto che cartoline olimpiche generiche. Questo uno vede nella mia presentazione, spero di essere in grado di presentarlo in modo chiaro, vede che alla fine del periodo addirittura si va con i giochi in Giappone che poi hanno avuto luogo a causa del conflitto cino-giapponese, ebbene si vede che addirittura in Giappone viene usata la carta da lettere, busta e carta da lettere di hotel e di compagnie di navigazione, proprio se ricordate anche sugli aerei quando 20 o 30 anni fa c'era ancora, si poteva prendere la busta e la carta lì per scrivere lettere a bordo dell'aereo con l'intestazione della compagnia aerea, cose simili, ma con una scritta addizionale che promuoveva i giochi di Tokyo, anche questo lo vedremo così come ulteriore contributo del mondo della corrispondenza alla promozione dei giochi olimpici. A questo punto vediamo queste considerazioni da un profilo storico. Quando partono le Olimpiadi in pratica c'era il telegrafo ed era piuttosto avanzato, sia pure utilizzato da pochi, perché c'era già cablata, i collegamenti tra l'Europa e l'America erano già cablati e nel 1902 addirittura si è cablata anche attraverso il Pacifico, quindi chiudendo completamente tra collegamenti terrestri e i collegamenti sottomarini, via cavo tutti i maggiori paesi del mondo. L'unico problema che c'era era che di tanto in tanto c'era qualche guerra e magari il nemico interrompeva i collegamenti in quel percorso per motivi strategici. Quando il telefono c'era, ma era molto limitato. Nel 1896 Marconi, ventunenne bolognese che si dilettava di provare, che non aveva frequentato dei corsi regolari ma aveva studiato da varie parti e si teneva corrente leggendo le relazioni dei grandi scienziati, riesce a trasmettere a due chilometri di distanza ed è quello che c'è al tempo addirittura qualche qualche mese dopo le Olimpiadi di Atene. Quindi questa è la situazione in cui ci troviamo quando pensiamo alle comunicazioni e quindi al valore di quelle lettere che viaggiavano in qualche giorno da un posto all'altro di un paese e magari in una settimana arrivavano da un estremo, almeno sulle grandi linee, da Atene nei vari punti di Europa, a questo punto, com'era la condizione e com'erano anche i giornali. I giornali erano, il Corriere all'epoca tirava sugli 80.000 copie, se non ricordo male, e la gazzetta che è uscita, qui c'è scritto anno secondo, ma in realtà è stato prestigiato il centenario in occasione della, praticamente, e questo è il numero dell'anno primo, numero uno andrebbe letto, non so, motivo di fare anno secondo, ma comunque usciva due volte alla settimana questo primo numero è uscito casualmente tre giorni prima delle Olimpiadi, ma il resoconto dell'inaugurazione dei giochi di Atene è del 13 aprile, cioè la settimana dopo, tanto per darvi idea di come le notizie, cioè praticamente se uno avesse scritto all'amico e mandato una lettera e messo magari i francobolli con le Olimpiadi, sarebbe arrivato prima della gazzetta. Lo sport era messo anche ancora come era, lo sport è cominciato, qui ho badato soprattutto al calcio come riferimento, in pratica il primo, quando ci sono le Olimpiadi non c'era ancora il primo campionato italiano di calcio, il calcio è arrivato ai giochi olimpici solo nel 1908, il CONI è stato fondato nel 1914, quindi la partecipazione italiana sino al 1912 è stata praticamente, non dico spontanea, ma organizzata in modo molto lasco. Non si sa bene quanti siano stati addirittura italiani ai primi giochi nel 1896, ufficialmente non ne risulta nessuno, però leggendo qua e là ci sono tre nomi e qualcuno dice che erano addirittura qui, questo per dirvi che come alle prime Olimpiadi si sia arrivati in modo molto improvvisato. Ecco, d'altro canto quali erano gli strumenti che la corrispondenza poteva mettere a disposizione? La logica della pubblicità era già insita nelle buste murvedi inglesi nel 1140, le vignette escono cinque anni dopo, le prime sono per delle esposizioni, questo motivo che sarà ricorrente anche più tardi in Austria. Nel 1860 ho letto su un autorevole libro inglese che è stata usata la prima vignetta per raccolta fondi per supportare Garibaldi nella conquista della Sicilia. e nel 1864 la prima vignetta commemorativa che è stata dedicata all'anniversario di Shakespeare ed è servita anche a raccogliere fondi per il memorial dedicato appunto a Shakespeare. La prima cartolina postale del 1869, perché c'era una grande diffidenza, addirittura la prima cartolina reca un avviso agli utenti, in quanto le poste vedevano una specie di mancanza di privacy rendendo pubblico il testo della lettera praticamente, in quanto lo spazio era accessibile a tutti quelli che l'avessero avuto sotto mano. E la prima cartolina illustrata c'è nel 1870, quindi quando abbiamo le Olimpiadi abbiamo le vignette e abbiamo le cartoline già ormai da quasi trent'anni. Giancarlo, scusami, potresti per favore modificare il video in modo che ti si veda la posizione, l'angolatura del tuo schermo, perché la lettura del labiale aiuta chi non sente bene. Grazie. Quindi vorresti che io mettesci la mia... Così, così come sei adesso andrebbe benissimo. Va bene, ok, grazie. Grazie. Allora, tutto inizia nel 1894 col congresso internazionale alla Sorbonne di Parigi, in cui si decide di ripristinare i giochi olimpici. E in quella seduta viene costituito il CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, e vengono nominate Pierre de Coubertin, che è stata l'anima di questa iniziativa, e un intellettuale greco che viveva a Parigi al tempo, Dimitrius Richelas, viene nominato presidente. In quella riunione viene già deciso di organizzare ad Atene, due anni dopo, quindi in un periodo brevissimo, i primi giochi olimpici, e i secondi giochi a Parigi contestualmente all'Esposizione Universale. Ecco, c'è la prima vignetta, che è questa del 94, che è stata per anni sconosciuta, è stata ritrovata solo alla fine degli anni 50, nella sede, in una delle sedi del Comitato Olimpico a Lausanna. Ecco, questo per dirvi come... Questa è proprio la prima vignetta olimpica. Ma il suo uso è solamente... Non mi risulta, non l'ho vista mai su una busta, perché proprio è stata proprio... A quell'epoca tutto era circoscritto. Tieni su la faccia, per favore. Provo. Allora, nel 1896, come ho detto, arrivano i giochi ad Atene. La Grecia era totalmente impreparata e quelli praticamente avevano fatto, come si dice, il conto senza l'oste. E l'oste era veramente in grandissime difficoltà sull'oro dalla bancarotta, al punto che è saltato addirittura un governo per questo motivo, per la lotta tra chi le voleva i giochi e chi si opponeva, dicendo che sarebbero stati un onere ancora gravissimo per il paese. A questo punto, nel febbraio del 1895, Dimitrios Sakorapos, che è quel signore che vedete sulla destra, in una delle tante cartoline dell'epoca, che era presidente del club timbrofilo di Atene, propone una serie di francobolli per finanziare i giochi. E qui, da filaterista, devo ricordare che da qualche anno erano cominciate a venire fuori le grandi serie, le serie commemorative, pensate a quelle emesse negli Stati Uniti per l'anniversario della disposizione colombiana in Chicago del 1993, al Portogallo e altre, quindi delle grandi serie bene illustrate, che avevano successo. Sakorapos era anche un mezzo commerciante, era un editore, era uno che si occupava di filatelia in modo molto intenso. Il direttore generale prende l'idea, scrive al governo, ipotizzando, proprio presentando una specie di mini business case, dicendo ci saranno 30.000 collezioni, comprano i francobolli, quindi incasseremo 600.000 dracmi. Il governo Cipeis poi diceva bene, anticipiamo 200.000 dracmi a fronte di questo probabile incasso e la Banca Nazionale di Grecia con ne concede altre tante come prestito. Quindi cautelandosi in questo modo arrivano al comitato organizzatore 400.000 dracmi, che erano una cifra sostanziosa. Intanto il principe Costantino, che era il responsabile, il presidente, penso per il suo titolo esatto, del Comitato Olimpico Nazionale, il principe Costantino, si va da fare, convoca i ricchi greci, va per esempio da Averov e riesce a scucirgli 920.000 dracmi per lo stadio, per altri impianti sportivi, altri mettono anche loro qualche centinaia di miliardi dracmi, e quindi alla fine i giochi si fanno. Questi sono i 12 valori emessi il 25 marzo del 1996, con una validità postale iniziale sino al 30 settembre, ma poi rimangono in vendita sino almeno alla fine del 900. L'uso postale poi è ancora più recente. I motivi sono tutti di tipo mitologico o sportivo, richiamano tutti l'antica Grecia e i due monumenti che ci sono sono lo stadio Lacropoli, praticamente, e lo stadio Panathenaico. È stata disegnata ad Atene, ma è stata stampata, è stata incisa e realizzata a Parigi con tirature che vanno dai 4 milioni per i valori più bassi sino ai 52.200 per i 10 dracmi. Ecco, nel frattempo, qui ci sono due perle che sono attualmente, erano nella collezione di Dottor Garuso ed sono state acquisite dal Museo Olimpico di Lausanne. Qui ci sono due vignette, quelle in alto, di ventilepta, di cui non si sa niente. Queste non sono state catalogate, sono delle cose che il buon Salvatore ha trovato e che si vedono simili. La prima è un po' rozza, ma la seconda è praticamente un'imitazione del franco bollo da due dracmi che è stata fatta per una certa ditta di Solacos, che stava al numero 14 di Iasoprocle ad Atene. Più di questo non si può dire, ma queste due vignette ve le faccio vedere stasera, ma non si trovano in nessuna pubblicazione o catalogo. Ecco, le cartoline che vi dicevo, ecco, la fotografia è agli inizi e vengono prodotti delle cartoline che mostrano delle foto dello stadio durante i giochi e anche durante delle prove di ginnastica. Ecco, in tutto 241 partecipanti, di cui 169 greci in rappresentanza di 14 nazioni. Ora qui c'è tutto da metterci tanti distingue, perché probabilmente anche se gli Stati Uniti hanno avuto una parte predominante, la maggior parte di loro erano persone residenti in Europa. Addirittura si dice che nella rappresentanza della britannica ci fosse una certa partecipazione di dipendenti dell'ambasciata di Londra ad Atene e così via. Quindi molto volontariato, molto dilettantissimo anche perché i professionisti erano completamente esclusi. Nel 1900 i giochi dovevano essere contestuali all'esposizione universale di Parigi, diventano incastrati dentro e dal punto di vista di riferimenti siamo a zero. Ci sono due cose però che interessano e che sono state ricepite anche dagli sportivi proprio per ricordare questo periodo. Cioè la prima flam pubblicitaria dell'esposizione anche se il testo è ancora molto piccolo è nel datario e poi gli otto uffici postali tra cui quella di Van Sen che era quello vicino al posto di maggior interesse dal punto di vista di svolgimento delle gare. Però c'era anche un'altra cosa importante in quell'esposizione cioè gli Stati Uniti avevano un padiglione enorme che voleva dimostrare la potenza americana e aveva addirittura l'ufficio postale modello che aveva certe prerogative particolari e aveva diversi annulli tra cui quelli che vi faccio vedere qui. Le cartoline qui a Parigi c'è un'enorme ricchezza di cartoline che propagandano questo avvenimento e lo ricordano e le vignette sono anche ce ne sono alcune veramente molto belle rappresentano lo spirito un po' dell'arte del tempo anche se qui vedete l'esposizione universale arti industria agricoltura eccetera eccetera ne hanno lasciato un paio bianche ma di sport olimpiadi non hanno scritto niente i giochi in questa nell'edizione successiva sono proprio trascurati infatti l'edizione successiva è anch'essa nell'abito di una fiera mondiale è a San Luis ed è stata inizialmente i giochi sono stati assegnati a Chicago per il CIO erano a Chicago però San Luis politicamente è molto forte si impone dice sì se fanno le Olimpiadi a Chicago nel 1904 la nostra esposizione passa in secondo piano loro se guardate il primo annullo nel 1900 reclamizzavano un'esposizione per il 1903 nel 1902 ci sono fatti i furbi l'anno non c'è più e sono riusciti praticamente a convincere i presidenti degli Stati Uniti a spostare i giochi olimpici a St. Louis perché di fatto il CIO ha detto l'abbiamo deciso di farlo negli Stati Uniti se volete fare di St. Louis andate pure avanti però decidete voi quindi anche qui ci sono ecco l'unica cosa che ricorda il puntista filatelico è una serie di 5 valori perché quella esposizione si sarebbe dovuta tenere nel 1903 perché cent'anni prima gli Stati Uniti avevano acquistato dalla Francia la Louisiana che non è lo Stato odierno ma è quell'agglomerato di 12 o 13 stati attuali che vedete è ben evidente nelle due immagini che vi ho fatto vedere ecco quindi questa che è l'unica serie commemorativa degli Stati Uniti di quell'anno è uscita nel 1904 proprio in concomitanza con l'esposizione ma non fa nessuno dei 5 valori dedicato né all'esposizione né ai giochi olimpici anche le tante vignette dell'esposizione non danno la minima informazione sullo stadio sui giochi eccetera proprio siamo a zero idem per le cartoline che mostrano appunto qui magari qualcuno potrà andare leggendo guida eccetera dove era il luogo almeno una cartolina di sinistra dei giochi ma più di questo non andiamo il secondo è il palazzo delle miniere della metallurgia 1908 siamo ancora all'interno dell'esposizione siamo a Londra per l'esposizione franco-britannica due annulli anche questi praticamente non relativi allo sport però abbiamo le prime avvisaglie anche perché a Londra c'era un commentato olimpico attivo che infatti emette delle vignette come quella che vedete sulla destra mentre quella a sinistra è stata soprannominata lecciata sovrastampata con un great stadium che era il nome che veniva dato allo stadio di White City che era stato costruito per l'occasione e che vediamo nella figura di destra questi sono i primi due elementi finalmente che hanno un sapore olimpico di tutta di tutte queste tre olimpiadi che si sono svolte nel quadro di esposizione qui addirittura abbiamo una cartolina con l'apertura dei giochi olimpici del 1908 da parte del re ecco poi ci sono i giochi del 1906 che richiamo qui perché non volevo spezzare la serie di quelli organizzati nell'ambito di esposizioni la Grecia delusa perché avrebbe voluto continuare ogni quattro anni a organizzare i giochi pur nella difficoltà economica in cui si dibatteva riesce a organizzare voleva assolutamente l'organizzazione dei giochi del 1908 non c'è riuscita e nel 1906 ha voluto organizzare i giochi del decennale che però sono stati un po' snobbati dal comitato olimpico della comunità olimpica internazionale per cui hanno avuto varie nell'arco dei decenni varie denominazioni intermedi oggi va di moda all'intercalati ma mai solo in Grecia li chiamano giochi olimpici a questo punto la Grecia ha bissato le emissioni sempre con lo stesso stile con lo stesso disegnatore però facendoli stampare a Londra da Peggis e Bacon attraverso un intermediario JP Seg e la novità che interessa e per questo li ho tenuti e perché sono diventati dei classici nel collezionismo olimpico sono i tre uffici postali speciali all'acropoli allo stadio e allo Zappeion per chi è stato a Notos 2021 ricorda che era la sede di quell'esposizione filatelica e non la prima volta che c'era un'esposizione filatelica internazionale in quella sede è un edificio neoclassico fatto costruire dai fratelli Zappas che erano appassionati promotori olimpici e aveva già ospitato nel 1896 le gare di scherma e di tennis ecco nei giorni maggiore affluenza del gare sembra che addirittura avessero bisogno di usare due bolli perché uno non era sufficiente quindi qui abbiamo la prima esperienza di supporto cose strane che sono venute fuori organizzate appunto l'intermediario è stato il cartoncino di auguri per il 1907 della direzione generale poste fatto stampare con i pulsori originali e anche quest'altro cartoncino che è stato oggetto anche di speculazioni in giro durante i decenni in campo olimpico ecco dopodiché riprendendo la strada arriviamo a Stoccolma a Stoccolma cominciamo con l'impostazione che nel tempo è maturata verso oggi cioè innanzitutto cominciare a pubblicizzare i giochi utilizzando degli annulli meccanici in uno degli uffici più importanti del paese quindi annullo bilingue sia in svedese che in inglese con la data dei giochi c'è poi questo strano annullo misterioso apposto non obliterante apposto a Goetheburg sulla corrispondenza in partenza riammare per gli Stati Uniti che non si sa bene chi l'abbia comandato ed è oltretutto è in francese che peraltro era la lingua più usata nel mondo olimpico internazionale ed è strano che queste raccomandate siano quasi tutti indirizzate a Rochester o nella zona di Rochester negli Stati Uniti quindi questo è un mistero che ancora non è stato risolto perché ci sia questa pubblicità verso l'America dei giochi olimpici ecco l'iniziativa importante anche dal punto di vista grafico sono le 16 vignette in 16 lingue differenti di cui vengono a stampare quasi 5 milioni di pezzi per propagandare i giochi soprattutto apponendo queste vignette sulla corrispondenza allo stadio ci sono due annulli uno che è all'interno dello stadio e l'altro in usato dall'ufficio postale per bollare la corrispondenza che è stata messa nelle cassette distribuite intorno allo stadio e c'è anche la prima etichetta raccomandata olimpica qui c'è anche uno strano giro di cartoline che è strano perché è molto bello e molto numeroso passano le centinaia di unità e sono state stampate la Granbergs che è una ditta specializzata la quale aveva ottenuto dalle poste di metterli in Italia nell'ufficio postale prendendosi costi di costruzione dell'ufficio postale medesimo quindi attraverso questo accordo queste cartoline sono state sempre considerate ufficiose avevano ovviamente l'autorizzazione del comitato olimpico e le foto erano realizzate da un'azienda che poi è diventata molto nota come costrucce di macchine fotografiche importanti come l'Assad un'altra iniziativa particolare è stata che ottenuti i giochi le cartoline normali quelle per turisti sono state sovrastampate in varie lingue con giacchi olimpici in Stoccolma e la data degli stessi vedete quelle in italiano e quelle in tedesco l'ultima cosa è una frittata combinata l'anno dopo dalle poste svedesi che tenevano dei corsi per addetti postali addetti soprattutto alla bollatura e quindi dei corsi di bollatura in cui avendo avuto delle ribanenze delle cartoline ufficiali dei delle vignette e avendo lì i timbri restituiti dagli uffici postali li hanno concessi per fare esercitazione e questo era materiale del corso che sino che rimaneva nell'auda sarebbe stato perfetto anziché prendere la via del cestino dove distruggi i documenti hanno preso la via del commercio filatelico e oggi sappiamo che quelle del 22 luglio così di questo tipo senza indirizzo senza niente sono state fabbricate con materiale completamente originale nel corso un anno dopo le Olimpiadi ecco altri 1916 dovremmo andare a Berlino i tedeschi si preparano come documenta l'intero a sinistra che è sull'iniziativa privata però viene costruito lo stadio a Grunwald e vengono prodotte vignette ci sono questi più scuri sono dei bozzetti di una serie di 10 francobolli realizzati dal professore Franz Fostuck di Monaco però arriva la guerra e si ferma tutto ecco la guerra è anche la causa dell'assegnazione dei giochi a Anversa in quanto si voleva un po' porre l'accento su questa situazione così penosa che la città aveva attraversato e cercare di dare una mano alla ricostruzione e quindi le porte belghe hanno preso sul serio iniziativa hanno ripreso gli annulli di propaganda tutti erano mi sembra otto nelle principali città talora a predominanza quindi prima il terzo francese e l'altro con prima il terzo fiammingo e lo stadio è stato usando un annullo manuale per molti giorni le cartoline emesse sono state sono state sia di tipo allegorico questo è l'inizio per l'attribuzione con richiami alla storia della città e sui monumenti e anche poi durante i giochi tipo questa quando c'è stata una manifestazione particolare di una sagra folcloristica con un corteo locale c'è stata la seconda emissione dopo il 1896 questa è la seconda vera emissione olimpica richiesta dall'opera mutilati di guerra e quindi il beneficio del suo prezzo è andato quest'opera mutilati come dice chiaramente la scritta in basso di ogni francobollo motivi classici qui c'è la storiella del ministro che si è fatto ingollosire aveva pensato di ordinarne 5 milioni però gli hanno detto se ne compri 10 milioni ti facciamo uno sconto maggiore il ministro ricordando l'esempio della Grecia non ha pensato che nel 1920 dopo la guerra l'interesse per queste emissioni non sarebbe stato molto alto e si è ritrovato con il 90% dei francobolli in venduto per cui l'anno dopo avendo cambiato le tariffe postali qui l'esempio che io ho preso è di una soprastampa capovolta hanno ristampato tutto il lotto rimanente col facciale da 20 centesimi facendo un sacco di errori creando quindi una notevole varietà però questi non sono stati usati per propagandare le olimpiadi cioè e anche il sovrapprezzo scompare dato che sono stati considerati dei pezzi di carta dei valori postali da in cui cambiare il valore facciale praticamente qui vediamo le prime vignette legate alle olimpiadi quindi iniziative francesi di preparazione alle olimpiadi e un timbro olimpico svizzero che è una vignetta che è attratto talmente in inganno che nessuno ha tassato la cartolina a destra che mostra il secondo tipo di vignetta per la partecipazione ai giochi di Anversa che è stata presa come affrancatura nel 1924 Parigi fa il bismo questo fatto lo fa molto bene addirittura la propaganda viene fatta con un numero notevole di annulli in tutte le maggiori città del paese è bene in anticipo mentre è più modesta la copertura allo stadio ci sono praticamente c'è un timbro allo stadio e c'è un timbro a una nuova iniziativa che per la prima volta c'è un villaggio olimpico dedicato agli atleti in cui c'è molto traffico di posta e in cui sembra leggendo il rapporto finale sembra che gli atleti fossero molto critici esigenti infatti di volature fatte bene quindi le operazioni fossero orientate da queste richieste di volere i bolli in un certo modo ecco la Francia il comitato olimpico francese mette in piedi un comitato di propaganda che si occupa di gestire tutto e gestisce innanzitutto il poster le due cartoline che vedete i due poster le due cartoline che sono delle copie in miniatura dei poster e anche le vignette che sono stampate sempre con un bianco e nero dei poster stessi ecco delle vignette tanto per dire ne hanno stampati 3 milioni di esemplari ecco in due tempi vengono emessi anche i francobolli e qui c'è una presentazione a fare è la prima serie commemorativa della Francia mentre non so qui arriviamo 13 anni mi sembra dopo l'Italia o 14 rispetto a altri paesi arriviamo 30 anni dopo per questo ci vuole una legge particolare perché non era prevista l'emissione di francobolli commemorativi realizzata e per questo motivo il comitato olimpico che premeva per questa emissione riesce deve farci carico tutte le spese di produzione dei bozzetti quindi carica lui l'artista e quindi c'è un discorso a due livelli prima i bozzetti devono andare a vedere andare bene al comitato olimpico francese e poi il comitato olimpico francese deve cominciare la posta che quelli sono i bozzetti giusti al punto che non si mettono d'accordo su uno dei bozzetti che è questo dell'arena di RIM per cui debbono prendere debbono invertire i piani precedenti da cui una richiesta di prove dei due tipi che fanno molto interessante lo studio di questo materiale ecco era previsto anche un intero che è stato realizzato però con un piccolo questo era previsto per un certo per la tariffa di 30 di 30 centesimi solo che il giorno del il giorno prima dell'emissione praticamente il 30 il 31 marzo sono cambiate le tariffe postali e l'intero è stato messo il primo aprile quindi a questo punto bisognava questo intero si conosce sempre con un supplemento via francatura ecco un'altra novità sempre che sono le cartoline su commissione private come vedete anche qui sono stati presi in contropiede perché avevano stampato una casella grande per il francobollo e poi si sono trovati a dover usare le poste ci hanno messo il 15 il 15 centesimi con Pasteur che non era ancora uscito come francobollo ecco quella che vedete in basso era la custodia degli otti interi che venivano venduti tutti insieme di cui è stata fatta una tiratura molto limitata appunto perché era su iniziativa privata approvata dalle porte cartoline qui per tutti i gusti sia di tipo generico adesso questa unisce la torre Eiffel ai vari avvenimenti sportivi sia di tipo sia cronaca dei giochi qui ci sono scene di partite di calcio scene di di atletiche e così via adesso io ne ho scelte due il primo appunto non si vede molto bene ma è una partita di calcio secondo il corteo delle donne atlete altra novità a Parigi altre amministrazioni postali sia pure controllate dalla Francia in base un mandato assegnato dalle Nazioni Unite sono le due emissioni per la Siria e per il Libano e altra novità ma fuori dal contesto del paese organizzatore è l'emissione per celebrare la vittoria nei giochi olimpici dell'Uruguay Rime presidente della FIFA era anche il capo responsabile del torneo olimpico dei giochi e quindi la competizione ha assunto anche agli occhi della FIFA un valore di campionato mondiale e questo è stato perché c'erano tutti i migliori team del mondo e questo è stato subito sfruttato con l'annullo celebrativo dell'Uruguay che vedete e qua c'è la stampa della serie su carta gialla che è quella in un'attivatura limitata riservata agli atleti appunto alla riparazione di questo cartoncino per gli atleti e per le personalità e chiaramente anche di questi un po' sono scappati e ci sono entrati in commercio non legati al cartoncino questa è stata la manifestazione in cui sono cominciati a inclinare rapporti con la FIFA sul professionismo e sono arrivati l'Uruguay sei anni dopo organizzato il primo campionato mondiale di calcio le vignette per raccogliere fondi vedete quella del ciclismo svizzero al mezzo e quella dell'olimpiadi quella del comitato nazionale ungherese nel mezzo c'è un blocco di vignette italiane del CONI che purtroppo non ho trovato in immagine più chiara infine per un omaggio alle personalità dei membri del CIO è questa prova collettiva come viene definita o diciamo foglietto speciale distribuito appunto dopo durante i giochi e dopo i giochi ultima caratteristica di Parigi come novità sono i giochi d'inverno che sono svolte come settimana internazionale a Chamonix senza riconoscimento preventivo del CIO hanno avuto leggi da manolo di riconoscimento come i giochi olimpici invernali il congresso però di Praga dell'anno successivo ha riconosciuto questo evento supportato appunto da Nulli e Cattoline come le prime olimpiadi invernali il motivo di questi problemi con gli sporti invernali che erano già apparsi a Londra a Anversa il patinaggio e l'Oke ad Anversa è stato che i paesi nordici che avevano dei fiorenti giochi nordici a casa loro non vedevano bene questa concorrenza di un evento quadrinnale rispetto che portava via praticamente faceva ombra alle loro iniziative nel 28 cambia tutto aria nuova a nullo propagandistico e finalmente dei francobolli moderni non più roba legata alla metodologia agli antichi giochi ma sport nuovi in senso moderni come il calcio e non c'è sovrappresso espresso ma l'utente lo paga ovviamente all'ufficio postale quello di rosso che vi ho messo sotto e il comitato organizzatore riporta un profitto di 50.200 donto fiorini dall'incassus per questi francobolli il poster anche qui viene ridotto e diffuso sotto forma di vignette e qui ci sono due iniziative particolari la prima è fatta dalla libreria Huygens che cura la produzione di una serie di cartoline stampate su interi l'intero di 5 centesimi verde che sono di supporto infatti il testo olandese olimpiade supportate il comitato olimpico olandese e sotto c'è una frase che più o meno dice ogni olandese deve essere orgoglioso per quando le onde corti di Eindolfen cioè le stazioni della Phillips nel 1928 dirà che queste milioni sono state le migliori organizzate sinora queste cartoline erano vendute attraverso una catena di librerie ed erano presumevano di avere una pubblicità che costava di cui c'è che andava dove c'è la mano in basso a sinistra però come il pubblicità racconta quasi niente e alla fine il comitato organizzatore per questa iniziativa ha ricevuto solo 60 fiorini le cartoline cosiddette ufficiali che vedete sono molte di questo colore che vedete qua sulla destra sono delle cartoline che sono un po' abortite nel senso che il programma era molto più ambizioso perché in quei giochi per la prima volta si sono avute delle riprese cinematografiche il comitato organizzatore ha fatto praticamente un insieme dei contratti per la fotografia e per il cinema e ha avuto molti problemi al riguardo alla fine per la cinematografia l'ha preso l'istituto luce mentre per la per la per le foto si sono limitati a queste serie che riproducono i avvenimenti dei giochi olympici o è anche impianti dei giochi olympici un'altra cosa strana è l'annullo pentagonale in cui guardando dentro il punto della stella si leggono giorno ora il numero dell'ufficio mese anno e gli uffici postali erano n1 n2 poi ce n'era un terzo di riserva le etichette di raccomandazione sono stati inizialmente scritti a mano e poi dopo c'è la seconda stadio e la terza è quella usata successivamente alla stazione centrale di amsterdam ecco qui la posta era molto incline a vendere a vendere questo tipo di affrancature cioè la cartolina ufficiale con tutta la serie e questo aveva un ufficio particolare per prendere gli ordini da istituti banche eccetera e questo è il fatto che abbia l'annullo dei giochi che sono finiti il 12 l'ultimo giorno ma abbia la raccomandata la stazione centrale e sia arrivata per posta aerea solo il 18 lascia pensare che sia un qualcosa di fatto dopo magari 13 o 14 di favore perché l'ordine arrivato tardi loro l'hanno soddisfatto comunque questo non è il mio parere ma quello del massimo esperto olandese che si occupa di questa emissione altra novità per amsterdam è l'iniziativa del portogallo che non solo ha il primo frattovolo su cui si evidenziano gli anelli olimpici ma è il è stato emesso obbligatoriamente da usare a prendere da a figgere tutta la corrispondenza interna per tre giorni dal 22 al 24 maggio 1928 per favorire per praticamente favorire la partecipazione della squadra portoghese delegazione composta da 21 persone di cui almeno un terzo squadra di calcio e dirigenti eccetera ai giochi di amsterdam come c'è scritto chiaramente amsterdam amsterdam 1928 in alto chi non lo ammetteva doveva pagare una sovratassa di 30 centesimi anche questa motivata da amsterdam come si legge sotto e quindi sono due cose vedete gli anelli olimpici bene in alto hanno dati nel riquadro e queste sono due cose particolari che non ha avuto poi il riscontro in altre iniziative olimpiche vignette anche qui per la federazione di canottaggio svizzera raccolta di finanziaria in messico aiutate gli americani l'america vince i giochi olimpici il comitato olimpico americano la Finlandia la Polonia vedete molti hanno anche evidente il valore hanno un valore facciale della sottoscrizione per supportare questa partecipazione ecco l'uruguay vince di nuovo il calcio questa volta però toppa le quantità c'è pochissimo interesse e quindi molti francobolli vengono perforati per con la stella o con la croce per il servizio ufficiale nel 32 cambiamo ancora musica questa volta ci sono i giochi olimpici invernali e i giochi olimpici estivi nello stesso paese ci sono due missioni separate che però fanno parte della stessa serie perché i giochi di Lake Placid Lake Placid sono a inizio di febbraio mentre gli altri a Los Angeles sono verso agosto e il vedete le tirature sono notevolissime 51 milioni 52 milioni 168 milioni per i tre cents che ho ingrandito perché volevo si vedesse bene la faccia di questo signore questa foto è la foto di Geremia Alfred Leconi straffettista o medaglia d'oro al 4% di Parigi che andava bene come soggetto ma non poteva essere ripreso col suo volto in quanto la legge americana proibisce di riprodurre persone viventi sui blancovoli quindi la foto è ben nota e l'arrangiamento pure qui è il festival delle vignette addirittura ce ne sono state prodotte di un certo tipo graficamente simili con da far aggiungere le varie tipografie locali il nome c'è qua un Los Angeles quella in alto a destra Los Angeles in Bites in California ma ci sono poi anche negozi eccetera hanno preso la loro piccola quantità vedete qui sono sono tutte americane o l'associazione franco-americana e c'è l'ultima che San Diego mi invita a fermarvi San Diego non è esattamente alla periferia di Los Angeles ma dice vi invita nel vostro viaggio con attrazioni varie ecco ecco qui c'è un errore mio scusate ma è la seconda volta il periodo questa testata è un refuso anche dopo gli Stati Uniti anche in Germania al 36 giochi olimpici e invernali estivi nello stesso paese la Germania qui fa le cose alla stragrande non in grande ci sono le prime rosse olimpiche questa è la novità centinaia di annulli di propaganda dici postali in mobilità che qui non sono stato a annoiarvi con tutti i dettagli vi faccio vedere solo le cose originali che sono venute fuori qua cartoline postali per i giochi invernali a Garmisch il sovrapprezzo di tutti questi valori è stato inizialmente stimato in un milione di marchi non ho trovato poi in nessuno dei casi ho tolto l'Olanda il realizzato ma ritengo sia stato superiore serie di otto valori con uno particolare innovativo perché è la prima volta che c'è la fiaccola ai giochi olimpici gli otto valori anche qui venduti su alta scala anche attraverso le associazioni sportive e allo stadio c'erano anche 100 venditori e 10 postazioni mobile che vendivano a Franco Bolli l'emissione di Franco Bolli in due foglietti è stata giustificata col fatto che c'erravano le vendite perché così si pagavano 2 anziché stare lì a fare il totale di 10 insomma roba del genere e vedete dagli annulli anche qui ci sono decine di annulli dislocati con utrici postali speciali dislocati nelle varie ubicazioni dei giochi diciamo che questo praticamente è l'esempio che è stato seguito secondo me anche nel dopoguerra soprattutto da Roma in poi per accelerare sempre la vendita di Franco Bolli libretti con 5 esemplari dei valori da 3 4 6 ed oggi di Ferming con di due tipi la fascia in rosso sopra la copertina denota che il libretto ha le tariffe postali in quattro lingue in tariffe postali anche per quello con lo stadio di Berlino e per le regate di Kiel per i giochi estivi il telegramma primo telegramma olimpico che spesso non so chi fosse accessibile a questo servizio sicuramente lo usava il comitato per per mandare le congratulazioni agli atleti che vincevano questo è stato indirizzato a Gisela Mauermeyer che è vincitrice della medaglia d'oro nel disco femminile infine per dimostrare proprio tutta la potenza del Reich c'è stato il sorvolo da parte del dirigibile dell'inde Boclelle 129 durante la cerimonia di apertura l'L129 ha fatto poi quella bruttissima fine l'anno dopo quando ha preso fuoco nel New Jersey ultima emissione di cui vi parlo prima dei giochi non disputati una emissione di Haiti nel 1939 per Coubertin questa secondo me è stata influenzata soprattutto da commercianti americani è stata venduta principalmente attraverso una banca con uffici sicuramente aperti sulla strada e quindi la popolazione locale che aveva anche altri problemi di cui pensare non ne ha appresi hanno acquistato molti questi sono stati pensati per costruire lo stadio nazionale a Port-au-Prince ecco sono i primi francoboli dedicati a Coubertin che era morto da poco arriviamo in Giappone e qui vedete l'hotel Imperial ovviamente io mi immagino questi alberghi soprattutto di top quindi con una clientela soprattutto la più la più vicina tra virgolette cioè la clientela dell'America della California soprattutto e quindi con la scritta in retro sotto dodicesimi dodicesimi olimpiadi a Tokyo e lo stesso è la scritta che compare con questa busta così a parte della carta da lettere della più grande linea che collegava il Giappone con gli Stati Uniti cioè N greco K il Giappone parte alla grande manda newsletter con queste buste in franchigia addirittura con le etichette apposta e usa anche le vignette per dare una visione del paese quindi non ci sono atleti ci sono il monte Fuji ci sono i vari templi ci sono i ciliegi in fiore e quindi ovviamente con tanto di ameri olimpici però come ho detto la guerra fa sì che nel 1938 verso la fine debbano rinunciare i giochi passano alla Finlandia in Finlandia viene organizzato un concorso per tra gli artisti per proporre noi francobolli è uno degli elementi ricorrenti è il riferimento come vedete nel francobollo il primo francobollo nel foglietto su a sinistra e nell'altro il pavo Nurmi l'eroe il grande il grande mezzofondista che è eroe nazionale praticamente ecco qui abbiamo come novità le cartoline le cartoline di Natale con soggetto olimpico proprio per pensare a questa specie di pace che avrebbe potuto permesso di realizzare i giochi olimpici e c'è chi si spera come la Lettonia che mette vignette e annulli invitando a passare dalla Lettonia sulla via di Helsinki e chiudo dicendo cosa ci aspetta ecco Parigi ha preso un'iniziativa particolare prima ha rimesso francobollo per la per la candidatura dopodiché una volta che a Lima è stato deciso di di assegnare a Parigi i giochi del 2024 hanno emesso questo foglio sovrastappando appunto con Lima e la data di assegnazione dei giochi per praticamente con tutti i margini con Lima eccetera in modo da catturare l'attenzione dei collezionisti e questo è stato venduto quanto mi risulta solo un foglio io direi che ho finito la mia presentazione spero di avervi passato questo messaggio e vi ringrazio bene molte grazie Giancarlo se puoi uscire per cortesia dalla condivisione dello schermo fatto fatto allora non abbiamo al momento domande in chat chiunque voglia intervenire posso alzare la mano o presentare domanda in chat mi sembra che Fabio abbia alzato la mano però non fatelo visivamente perché non ho non vi vedo tutti cliccate sulla mano prego Fabio bene grazie Giancarlo per questa presentazione e te lo dico da uno che è piuttosto allergico a tutto il mondo sportivo per cui dovrebbe valere di più insomma come sempre come sempre quando si approfondisce un argomento qualsiasi si scoprono tanti aspetti tante cose veramente interessanti e questa sera è stato un ulteriore caso la domanda ma quel materiale che hai fatto vedere da dove arriva arriva dal CIO o arriva da collezioni varie ritagli cose tue questo materiale arriva arriva quasi tutto da internet dal mio archivio personale ok grazie come ci ho detto io non colleziono ma praticamente queste immagini molte immagini le ho prese per la presentazione da siti vari e sono riuscito a dribbolare qualcosa di più interessante che però aveva delle grandi scritte ma io ho il massimo rispetto per il lavoro del CIO e quindi donò preso pesti particolari di lì però ti sei occupato della catalogazione della parte filatelica del museo del CIO esatto al museo del CIO c'è una targa e c'è anche il mio nome per la filatelia in cui insieme a quelli degli architetti che nel 2013 hanno ristrutturato il museo e io mi sono occupato appunto della parte filatelica di scegliere e ho rifatto le collezioni che è la collezione in quartine di tutti l'abbiamo rifatta limitatamente ai paesi ospitanti ed è aggiornata praticamente sino al 2020 e poi ho fatto la collezione Prestige ex novo con tanto materiale che era stato accumulato o mai classificato e mi mancano con un paio di giochi per finirla Bene ti risulta che questo museo del CIO sia molto frequentato? Il museo è un museo generale sulle Olimpiadi e quindi è molto frequentato questa parte questa parte il filatelica è espone solo 60 fogli ed è un passaggio per i visitatori Bene Se riesco a trovare la foto vi faccio vedere quanto ho detto Massimiliano Bruno ha alzato la mano prego Buonasera innanzitutto a differenza di Fabio Bonacina tutta questa roba che ha fatto passare Giancarlo sono pane quotidiano per me sono pane quotidiano Volevo innanzitutto complimentarmi perché ha riportato veramente tutto quello che era riportabile per dare un'indicazione precisa sul materiale filaterico quindi tenuto conto che le Olimpiadi intermedi del 1906 non sarebbero ufficiali quindi il primo annullo speciale mi confermi che resta quello delle Olimpiadi del 1912 perché lo Zappeion del 1906 lo stadion dovrebbero non essere Olimpiadi non riconosciute quindi visto dal punto di vista del Comitato Olimpico Internazionale le Olimpiadi del 1906 sono laterali proprio le Olimpiadi i giochi del 1906 visto dal punto di vista della tradizione filatelico sportiva sono parti integrate certo anche se c'è un meraviglioso libro di Michele Michele Sironis sul 1906 che vale la pena di guardare perché ci sono un'ottima idea anche del 1896 certo e anche se ho letto sul libro sul che fece se non sbaglio Bob Wilcock dell'associazione filaterica si conosce infatti sul 1908 esisterebbe un annullo speciale stadium che non ho mai visto non ho mai visto solo citato ma io non ho mai visto insomma io quando ero giovane cioè prima io sono stato tra gli organizzatori delle tre grandi mostre mostre di Rimini Riccione San Marino verso Mexico verso Tokyo e verso Monaco sono andato a Brighton a trovare a trovare Ernest Rory che era il più grande collezionista inglese e poi non toccare il giurato a Rimini infatti e anche lui nella pubblicazione che ancora è una specie di Bibbia dell'epoca della filateria o litica dice che non l'avevo mai visto infatti no no ma infatti secondo me se ne parla se ne parla ma non esiste grazie comunque grazie ma se nessuno l'ha mai visto su che base se ne parla ah non lo so io ti dico cosa i colleghi inglesi hanno scritto c'è solo un'immagine ecco volevo rispondere a Bruno c'è solo un'immagine che viene riportata su questo volume sulle Olimpiadi del 1908 peraltro anche completo ecco dei tutti famosi Annulli Balli McClinton eccetera eccetera dei vari padiglioni della mostra però non si è mai visto c'è soltanto purtroppo Bob Wilcock non c'è più quindi non possiamo chiederglielo più insomma da dove avesse preso questo annullo particolare grazie bene siamo andati un po' lunghi ma va benissimo ovviamente non è un problema vi sono altre domande o richieste di intervento allora se se non ce ne sono io chiedo prima di tutto a Fabio di presentarci l'evento la puntata di lunedì prossimo certo 4 marzo ore 21 come sempre via Zoom avremo Fabio Imperiale che fra l'altro è qua stasera che ci sta ascoltando il colore della memoria è il titolo del suo intervento e di tutt'altro argomento come sarà quello successivo siamo più su un binario più artistico leggo le cinque righe di presentazione dove lui parla in prima persona ricordo che ho sempre disegnato fin da bambino un'altra cosa che ricordo è che mi è sempre piaciuta la carta antica c'è stato un momento in cui ho iniziato ad accumulare materiale postale prima vecchie lettere poi soprattutto cartoline delle cartoline mi affascinava soprattutto il contatto con le vite degli altri provenienti da un tempo remoto avevo la certezza che prima o poi in qualche modo le avrei utilizzate nella mia arte e così è stato da molti anni realizzo dipinti utilizzando come supporto cartoline antiche accostate l'una all'altra per creare dei grandi mosaici è un approccio molto curioso sta facendo ha fatto anche delle mostre particolari e ne parlerà più che altro settimana prossima grazie ancora e buona notte Fabio scusa ho trovato la foto del museo se interessa ve la posso condividere non è bella perché non è migliore rimetti la condivisione dello schermo è la prima che mi è venuta fuori e data l'ora non sto a cercare altro vedete ah sì certo vediamo in pratica ci sono dieci dieci quadri i fogli sono ottenuti su da bagnetini tanto che è una cosa che non ho visto fare in altre circostanze gli architetti inglesi hanno deciso di fare così e ci sono due quadri di sei con la prima missione di Grecia con la prima olimpiade in quartina c'è tutta roba della collezione Samaranch poi ci sono ci sono l'ultima olimpiade svolta poi c'è i giochi di invernali poi ci sono due quadri dedicati alla di Coubertin praticamente una tematica su Coubertin e due quadri dedicati agli atleti quindi vedete sopra degli ingrandimenti che ho scelto io con dei vari francobolli in modo che il pubblico sia attratto da queste grandi immagini come vedete che sono di tutti i tipi dal patinaggio a Coubertin ai giochi di Garmisch ai giochi di Londra a Parigi la vedete qua è così a Versa in modo da dare una visione da lontano dei francobolli e poi richiamare su questi 10 quindi 60 fogli in totale ma è un minimo della collezione che saranno a mia stima 1500 fogli insomma tra le due collezioni bene bene ottima questo è stata un'ottima visione perché ci dà proprio l'idea io credo che anche in voglia visitare questo museo insomma non solo per la parte filaterica ma anche per è un posto bellissimo sul lago quindi ok chiudono la televisione ringrazio di nuovo tutti bene allora abbiamo sentito la qual era quale sarà il tema del prossimo anno ringrazio del prossimo lunedì prossima settimana scusate del prossimo lunedì ricordo che il tavolo dei postali è una iniziativa congiunta dell'istituto di studi storici postali Aldo Cecchi di cui io sono il direttore dell'unione stampa filaterica italiana di cui è presidente Beniamino Boldoni del quotidiano informazione filaterica online Baccari News e del museo storico della comunicazione che afferisce al polo culturale del ministero dell'impresa dei marini in Italy la cui direttrice è Graziella Rivitti tutti costoro sono stati qui con noi oggi e anche nelle settimane passate e nelle future ringrazio Giancarlo Morolli per la conferenza di questa sera e vi do appuntamento non all'anno prossimo ma a lunedì prossimo buonasera a tutti buonasera 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 grazie a tutti